In Lombardia diminuiscono ancora i ricoverati anche nelle terapie intensive, calano i decessi, aumentano i contagi ma a fronte di un numero di tamponi raddoppiato rispetto a ieri. I numeri diffusi oggi nel consueto aggiornamento parlano di oltre mille nuovi casi positivi in regione, anche in provincia di Como in 24 ore i contagi tornano a crescere. I casi accertati nell'intera Lombardia sono arrivati a quota 69.092 con una crescita di 1.161 in un giorno. Superano però quota 13.000, 13.502 per la precisione, i tamponi effettuati, praticamente il doppio rispetto a ieri quando erano 6.711. In totale in Lombardia sono 290.699 i tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi accertati in regione sono 161 in calo rispetto ai 203 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza il totale delle vittime sale a 12.740. Tra i dati positivi, quelli relativi ai pazienti ricoverati in ospedale, si conferma infatti un trend in diminuzione. Nei reparti di degenza non intensivi i pazienti covid sono 9.692 con un calo di 113. Ulteriore riduzione dei pazienti in terapia intensiva che sono ora 817, 34 in meno rispetto a ieri. Complessivamente in provincia di Como i casi accertati sono arrivati a 2.681, 89 in più in 24 ore. Ieri l'aumento era più contenuto, erano 42. In provincia di Milano la crescita più consistente più 480 positivi, il totale sale così a 17.000.